Sì, devo fare ta, 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 e ta Ok Perché? Oh, oh, ma che succede? No, no Aiutami Aiutami, che sta succedendo? Devo correre e tornare No, ragazzi, è il gioco più bello mai fatto di sempre E ragazzi, come va? Io sono Ferreniki E io sono Steph, e che se gioco è overcooked Ovvero, un giochino super divertente che abbiamo trovato e abbiamo pensato di portare, ovviamente, per un singolo episodio In cui dovremo cucinare assieme, proprio aiutandoci l'un l'altro Ok Per cercare di diventare dei cuochi abilissimi Però, dopo che impareremo, se il gioco ce lo permetterà, faremo una sfida uno contro uno per vedere chi è il cuoco migliore E giustamente, giustamente Ci si aiuta per migliorare, poi è giusto che si dichiari chi è diventato realmente il migliore Esatto, dobbiamo subito chiarire chi è più bravo a cucinare Sei pronta? Sì, assolutamente È il primo livello, non sappiamo quasi nulla del gioco, quindi pronta Allora, siamo noi due, io ovviamente sono quello con gli occhelli blu, super carino Devo prendere questa patata e portare a tagliarla No, è una cipolla, è una cipolla, genio del mare Dobbiamo fare una minestra Taglio, taglio, taglio Sì, dobbiamo imparare a fare... Ah, allora ti aiuto anch'io Eh, sai, grazie Dai, mi ci metto anch'io No, pensavo dovessi passarti qualcosa Corri Corri Però ci sono due taglieri Ai, non vedo niente lì Velocissima La devi mettere lì nel piatto, hai visto? Perfetto Le altre cipolle o quello che è Allora, risistemare questo Servono delle cipolle, grazie Vai, 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 le sto mettendo Piatto con solo cipolle pronto Ci hanno dato quattro di mancia Wow, ma siete un po' tirchi, scusate Siete davvero davvero un po' tirchi Non è male quattro secondo me I piatti sporchi devono essere lavati nel lavello Bene Uh, pure i piatti dobbiamo lavare Ma è fantastico Ho buttato la cipolla per sbaglio Ci pensi tu? Sì, prendo io, prendo io, prendo io Eccolo qua il piatto sporco Vai, 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 vai Oh no, ma è carinissimo sto gioco Ma scherzi, è davvero Guarda come lavo i piatti Oh mamma mia, che cosa carina Bravissimo, riappoggialo lì Lo rimetto qua, giustamente Ok, pronto, forza, vado a tagliare le cipolline Vado a prenderne altre, vado a prenderne altre Ho sbagliato, devo risistemare questo qua Ok, tagliuzzo, tagliuzzo, tagliuzzo Corri, piccolo chef, corri Guarda quanti ce ne stanno ordinando Ne abbiamo altri due da fare Sì, sicuramente è la specialità del giorno E quindi ce ne stanno chiedendo davvero, davvero tantissime Davvero tantissime Io non vorrei un piatto con solo cipolle, comunque Eh vabbè, magari è una cosa tipo figurativa Ci saranno anche altri ingredienti Quindi non te ne frega nulla Tu devi solo pensare a diventare un bravo cuoco Ma quante ne stanno chiedendo Troppe Mamma mia Abbiamo ancora un minuto in cui dobbiamo fare tutti questi piatti Spero che smetteranno di fare prima o poi tutti questi ordini Perché altrimenti Opla, ecco qua Guai Vai, 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 vai Prendi un cipollotto, tagli il cipollotto e poi pensa al piatto sporco Sì, assolutamente, assolutamente È fantastico sto gioco Ci sto prendendo la mano ed è davvero bellissimo Ti dico la verità È davvero, davvero bellissimo Serviamo dei robot Ah, questa è pronta Uff, che fatica Tre secondi Non so se è finita Ok, tempo è scaduto Sì, e guarda quante non ne abbiamo consegnato No, ma credo sia tutto ok Allora, ordini serviti 5 per 20 uguale 100 Consigli 14, cosa sarebbero? Ordini falliti 0 per 10, 0 Tre stelline Allora Io non ho capito nulla Non ho capito nulla Però è andata bene Di come ci sta assegnando il punteggio Però suppongo che tre stelline significhi che sia andata bene Quindi accontentiamoci e andiamo avanti Ok Nuovo chef Ciao, bellissimo Ciao Però non ci interessi Eh no Uh, bello Questa è la cosa più bella ragazzi Guardate, questo è il nostro furgoncino Noi possiamo andare in giro per la mappa E andare nei nuovi livelli, giustamente Eh, questa volta siamo in una città Eh sì, quindi sicuramente sarà molto più complicato Attento No, non distruggere il furgoncino che è nuovo appena comprato Non lo distruggere già Uh, street food questa volta Bellissimo Allora, zuppa di pomodoro Quindi pomodori Dove devo andare a tagliarli? Siamo super distanti Credo che Uh, ma è stranissimo Guarda le persone che Che camminano in mezzo alle nostre cucine In mezzo alla strada È super strano Ce n'è una da fare solo di pomodoro Quindi prepara una pentola solo pomodoro Ok, ok, ok Ci sono, ci sono Secondo me conviene che porti un sacco di ingredienti Sì, hai ragione Ascolta, dividiamoci I compiti Ok, inizia a portare cipolle Inizia a portare cipolle Ok, ok Mamma mia, ma è difficilissimo Lo so È solo il secondo livello Sto inizia a diventare super, super difficile Allora, il piatto dove lo dovrò consegnare? Da questa parte Sì, vedi dove ci sono le frecce Ok, ok, ok Ok, ok Mi hai lavati? Mi hai lavati? Mi hai lavati? Un po' fa Esatto, esatto Esatto, esatto Oh mamma mia, è troppo caotico Abbiamo 17 secondi per fare almeno un piatto E non fare una bruttissima figura Allora, su, 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 su Non è complicato cucinare È peggio di Masterchef questa cosa Io non capivo più nulla Sinceramente Era arrivato a un certo punto che non capivo più nulla Dobbiamo Comunque ho notato che abbiamo le cucine separate Sì Quindi dobbiamo essere più organizzati Portare ingredienti Tagliare, mettere a cuocere Lavare subito i piatti È impossibile Non ce la faremo mai Cerchiamo appena inizia Perché ogni volta cambia la cucina Appena inizia cerchiamo di capire Come è fatta la cucina E dividiamoci i compiti Esatto Perché io pensavo dovessimo farlo Come a livello precedente Invece era molto diverso Ci ha pregato Uh, bello, un laghetto Bellissimo Uh, il ponticciolo Ma salve Andiamo Lì lasciamo due stellini E poi cercheremo Quando adesso miglioriamo un po' Di fare la terza stellina Perché noi non accettiamo No, allora In questi giochi I livelli vanno sempre completati a terzo Esatto Perché c'è sempre un terzo persona Ah C'è un fantasma La cucina la iniziamo già a vedere Ah, ecco quindi E siamo in una nave pirata Uh Oh, che bello Per quello siamo andati in mare Aiuto È bellissimo Sono super in ansia Allora Cipolle Pomodoro Ti passo tutto No, solo cipolle per ora Abbiamo da fare solo cipolle Non ho neanche guardato gli ordini Oh, che bello Appunto Ma li hai visti i gabbiani? Salve Vogliono il loro cibo Alla velocità della luce Allora, tenga Cipolle, cipolle, cipolle Ok, con le cipolle ho finito Prossimo ordine Tre pomodori Pomodori, pomodori Qua Bravissima E qua Tieni tutti i pomodori Brava, 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 brava Penso che mi devi passare tu il piatto Giusto? Sì, devo fare Ta 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 Eta Ok Perché? Ma che succede? No Aiutami Aiutami Che sta succedendo? Devo correre e tornare No, ragazzi È il gioco più bello Mai fatto di sempre Veloz Ok Allora, funghi Minestra di funghi Zuppa di funghi stavolta Fungo Stiamo andando bene Stiamo andando bene No, non di nuovo No, no, non di nuovo Allora, calmiamo Come faccio a prendere gli ingredienti adesso? Oh, mamma mia Devi fare tutto il giro, esatto No, dai Ma non mi potete fare queste cose Corri, corri No, ogni livello è davvero una Mi sto, mi sto Allora, te lo devo mettere qua Ho preso Sbaglio, ho preso un pomodoro Aiuto, aiuto, aiuto Non ero pronto Perché l'ho già preso? Allora, cipollotti 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 Aiuto No, è impossibile Ti passo il piatto di funghi No, stiamo andando bene questa volta Allora, devo appoggiarmi un fungo dall'altra parte Piatto Non so dove mettere il fungo Eccolo, ok, piatto Ok Ho notato che i piatti invece stavolta non si lavano Tornano direttamente puliti No, non di nuovo No, 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 no Aiuto È davvero complicato Fa spazio, per favore Allora, cipolle, giusto? Un cipollo e poi funghi Un cipollo Forza Vieni Bravissima Ah no, ho preso un piatto per sbaglio Vabbè, te lo lascio Cipollotti Funghetti Grazie No Perché l'hai buttato? Non sapevo fosse il cestino sbagliato È troppo divertente È troppo divertente Siamo in ritardo con i pomodori Poi mi servono altri tre pomodori Grazie Pomodori, pomodori Forza Ok, i pomodori ce li ho In mare in mezzo ai gabbiani Un piatto, un piatto, un piatto, un piatto, un piatto Tieni, qua, qua giù, qua giù, qua giù Vada Qua giù Si muova, si muova Ok Stiamo andando bene Ecco qua Oh no, oh no, oh no Ti ho lasciato già i pomodori Rientra, rientra, vai Aiuto, aiuto, aiuto Piatti, piatti, ti lascio i piatti qua Non ho più gli ingredienti, devi ripassarmeli Veloce con gli ingredienti Ma ti servono pomodori? Un pomodoro e poi i funghi Ok, i funghi Aiuto Funghi Ok Ok, è un altro fungo qua Ok, ok Bravissima Ok, ci siamo Pomodori, pomodori, pomodori Eccolo Vai Andata Oh mio Dio Ce l'abbiamo fatta Ti do un altro fungo No, non mi serve, non mi serve Allora lo butto Oh no No Oh no, oh no, oh no Uffa Mi fammi entrare Pentola Devo fare il giro No, l'ho mancato Devo fare il giro Aiuto Mi serve un piatto, mi serve un piatto, mi serve un piatto, velocissima Arrivo, 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 tieni Tieni Pronta a prenderlo, pronta a prenderlo, altrimenti l'ordine è fallito Ok, vai Ta, 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 vai Uff Funghi No, cipolli, cipolli Si decida Scusi Si decida Ok, tieni Funghi e pomodori Ok, come faccio a darti tutto? Non lo so Mi devi mettere qualcosa in un piatto Tempo scaduto Non ne abbiamo fallito nemmeno uno No, siamo andati bene, secondo me, stavolta a tre stelle Come due Come due Come due, scusami Dobbiamo essere più veloci, capito? Siamo pronti alla sfida? Ci siamo Hai paura? No, per niente Ci schiaccerò Dai, si muova, si muova Allora, da quello che ho capito dobbiamo comandarne due E con R1 possiamo passare a comandare da uno all'altro Esattamente Quindi è una cosa davvero complicatissima Ma allora c'è un altro posto dove tagliare, non l'avevo neanche notato Sì, 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 neanche io l'avevo notato, l'ho vista adesso Metti a cucinare e non mi dice nulla la furbona, capito? Cosa? Che non mi avverte di nulla lei Ma che cosa non ti avverto di nulla? Vuole vincere Allora, questo E allora mettiamo adesso a tagliare dell'altra carne, prego È notato che li lasci tagliare da soli? È fantastico È davvero fantastico Sì, 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 sì Allora sto panicando Sto panicando Sto panicando Sto panicando La carne è pronta, pronta Però ti dirò Perfetto Non è così scomodo anche giocare da soli, vero? No, sinceramente no Non è poi così scomodo Anche se poi è davvero davvero complicato Primo piatto servito Anch'io, fatto, fatto, fatto Altro che non è complicato giocare da soli Guarda, lascia perdere No, sì, ho già cambiato idea Ho già cambiato idea Lascia perdere È complicatissimo È molto più complicato Secondo piatto pronto Grazie 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 a tutti Aiuto Per essere venuti Allora, qualcosa ci vuole anche La cucina vi piaccia Mamma mia Pronta la nuova bistecca Risistemiamo questa Rifacciamo così Aiuto, non ci sto più caffendo nulla Facciamo così Così, così Così Dove si lavano i piatti? Mettiamo a cucinare Prendiamo il pane Facciamo così Nuovo piatto pronto Grazie Aiuto Due Cinque Quattro Basta, mi arrendo Tre Lascio la carne bruciare Due Uno Tempo scaduto No, è davvero complicatissimo Complicatissimo Il digitale è la squadra blu Bravo Era un inferno, guarda No, no Io il fatto è che poi qui Ho l'asta del microfono Non vedevo niente Cioè, io ho cercato di fare tutto totalmente alla cieca Non vedevo nulla È davvero complicato Ma poi tilti Cioè, già devi pensare A lavare i piatti A cucinare A mettere sempre la carne A tagliare le cose Nei due da comandare Due da comandare E l'elirio è più assoluto Però, questo giochino è davvero carino L'hanno pensato benissimo E il gatto ovviamente vince Se ti mettevi il gatto anche tu Andavi due volte più veloce Hai ragione La sai Chi è carino è sempre più veloce Assolutamente sì Ci fermiamo così per questo video Speriamo tantissimo che vi sia piaciuto questo gioco Stiamo costantemente cercando altri giochini divertenti da portarvi Giusto per sempre fare un po' di flash Giustamente Non ti aspettavi Non riniziare Fresh Lo faccio bene di te, vedi Lo faccio bene di te In modo tale Da spezzare un pochettino da Minecraft Roblox L'obiettivo è questo Con questi giochini Ovviamente di solito sono episodi singoli Come vedete però questo qua ha la campagna Quindi se vi piace tantissimo Potremmo valutare magari di portare un secondo episodio più in là Quindi vedete voi un pochettino A noi è divertito molto È molto complicato Guarda, è complicato almeno quanto quello dove si copiava Assolutamente È complicatissimo Per faragonare perché è la stessa difficoltà Un inferno totale E ho capito che non andrò mai a Masterchef No, manco io Neanche per idea, guarda Bene ragazzi Se vi è piaciuto lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao, alla prossima 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 Ciao, alla prossima